The New Stories. La tua informazione libera. La guardia di finanza di Madesimo e un collega 23enne di quello di Sondrio. I militari, originari di Bormio e Tirano, sarebbero precipitati per decine di metri. Mi stringo al dolore delle famiglie dei tre giovani militari del soccorso alpino della guardia di finanza, morti tragicamente in Valmasino durante un'esercitazione. Le mie condoglianze anche alla guardia di finanza per questo lutto che colpisce profondamente tutti noi. È il messaggio di cordoglio del ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.